Pratico e semplice attacco alice per buffetteria Bundeswehr. Questo oggetto è un convertitore, serve per convertire un givernaggio tedesco della buffetteria Bundeswehr su una di tipo alice americana, ossia tramite questi quattro occhielli fuori e questi due ganci alice andiamo a prendere una fondina con attacchi tedeschi solo per buffetteria Bundeswehr in effetti questa su un cinturone normale non entra e andiamo a sovramontare questo attacco qua sopra facendo collimare questi quattro fori con questi quattro e chiudendo questi sotto. In questo modo abbiamo i ganci alice messi al verso giusto i quattro agganci fissati si possono togliere e mettere qualunque all'orio vogliate in ogni momento in questo modo questa fondina Bundeswehr può essere agganciata in un cinturone di tipo tradizionale all'ice o qualunque altro tipo voi vogliate.